Ieri mattina Piazza Bellini è stata per l'ennesima volta sfregiata, anzi per la precisione le mura greche di Piazza Bellini sono state sfregiate da un balordo che praticamente vive qui e che ha deciso di calarsi all'interno della recinzione delle mura greche e spingere un blocco di tuffo al di sotto. Questa è una piazza particolare, una piazza peraltro vissutissima, centro di grande vitalità sia per coloro che ci abitano che per coloro che ci passano per andare al lavoro, compresi i medici e i paramedici che si trovano ad andare verso il Policlingo Vecchio e poi purtroppo è vissuta, mal vissuta da tutti coloro che partecipano alla movida serale e notturna. Stiamo parlando di coloro che dimenticano che stanno passeggiando in una città che ha 3.000 anni di storia e quelle che sono le mura greche all'interno della piazza raccontano la cinta muraria della città e meriterebbero qualcosa di più che diventare un ricettacolo di immondizia, di lattine, di bottiglie.